Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Torniamo con un video dedicato a Sorare, ben differente dai soliti, perché vi parlerò di una cosa su cui mi sono voluto documentare personalmente e su cui veramente ho fatto difficoltà a trovare informazioni. Parliamo di Pavel Trader, è il nome di un utente disponibile in Sorare che probabilmente è uno dei più grandi collezionisti all'interno di Sorare. Ovviamente collezionare all'interno di Sorare è fine a se stesso, ma permette a chiunque ne abbia le capacità economiche di avere potenzialmente un valore economico all'interno di Sorare anche esponenziale. Ma non è quello che ci interessa. Quello che vi farò vedere oggi è un video diviso in due, dove nella prima parte vi parlo delle piccole e poche informazioni che ho trovato su Pavel Trader e la seconda parte vi faccio vedere un po' della sua collezione. Perché ho parlato di lui? Perché chiunque sia registrato in Sorare, chiunque abbia inserito un piccolo budget economico per acquistare e vendere carte, non può non essere capitato nel profilo di Pavel Trader perché vendeva carte. Perché praticamente ha quasi un monopolio su alcune carte e infatti vi spiegherò anche alcune tecniche che magari lui ha la possibilità di utilizzare per fare trading all'interno di Sorare. Ma prima di partire vi faccio vedere una breve cosa. Allora vi lascio in descrizione come sempre il link per accedere alla piattaforma di Sorare per registrarvi gratuitamente. Perché registrandovi con quel link potreste ottenere card limited in regalo, card limited che sono vendibili sul mercato. Questa è la carta che io ho ottenuto, grazie che io ho ottenuto e che anche un altro utente ha ottenuto, perché registrandovi attraverso il mio link, oltre a ottenere un set di carte comuni per iniziare a giocare, ottenete anche una carta limited gratis nel momento in cui effettuate le prime 5 aste all'interno di Sorare. Questa è la carta che ho ottenuto e se ne andassimo a vedere il valore economico della carta che ho ottenuto in regalo è circa di 13-14 euro. Quindi in pratica mi hanno regalato 14 euro. Passiamo a chi è Pavel Trader, Pavel Trader o comunque vogliate chiamarlo. Come accennavo ecco le piccole informazioni che circolano sul web. Allora, gli screen che vedrete sono tratti da Reddit, quindi il classico forum, community, dove gente tratta di vari argomenti. E c'è un utente che chiede, who is Pavel? E qualcuno che risponde, è solo un manager qualunque su Sorare. L'unica differenza fra questo Pavel Trader e noi altri è che ha una galleria di carte del valore che va forse a sforare il milione. Ma secondo me, e poi vi farò vedere anche alcune carte che possiede, sono anche inestimabili. Perché sono card uniche che non esisteranno più e che non esistono più se non all'interno di Sorare per chi ne è in possesso. Andiamo avanti. Questa è la prima delle piccole informazioni che si trovano. La seconda informazione che è sempre tratta da Reddit domanda se Pavel Trader è affiliato a Sorare o meno. Ma in realtà no. Pavel Trader è un utente come qualsiasi altro. Probabilmente è un utente che è riuscito a sfruttare una registrazione molto precoce. Quindi vuol dire ha iniziato ad usufruire della piattaforma di Sorare molto prima rispetto a tutti noi. Quindi quando ancora la piattaforma era grezza e non era molto conosciuta. Per cui magari anche a livello economico, per quanto sicuramente avesse a disposizione un budget astronomico, ha avuto la possibilità di manipolare carte che nel tempo hanno subito cospicui rialzi di valore. Quello che viene detto all'interno di Reddit è che chiunque appunto, come vi dicevo io, ha avuto a che fare con carte di Pavel Trader, ha fatto offerte, ha provato ad acquistare o ha trovato come carte più economiche multiple copie, perché non trovate solo una singola copia, ma trovate multiple copie della stessa carta in vendita da Pavel Trader. Una tecnica che utilizza Pavel Trader, perché ne ha le capacità economiche, torniamo sempre lì, è l'accaparrarsi tutte le carte disponibili di quel giocatore. Come fa? Capienza economica, punta carte ovviamente che hanno una bassa densità sul mercato, quindi mi viene da pensare carte rare, carte super rare, di un solo giocatore ci sono 10-100 copie, se io acquistassi tutte le 10-100 copie, per quella stagione lì ho il potere di decidere il valore di mercato di quella carta. Quindi potenzialmente lui potrebbe comprarsi tutti quei giocatori, non appena c'è una buona prestazione, piazzarli ad un prezzo che magari risulterebbe anche fuori mercato, ma essendo, avendo un potere così alto a livello economico, diventa una cosa devastante. E questo è, diciamo, la biografia, ma in realtà non c'è altra informazione perché non ha profili pubblici, non è noto chi è e da dove viene questo Pavel Trader, per cui direi di andare a vedere un po' della sua collezione e farci un po' di invidia, farci venire la colina o la bavicchia qua sotto, eh? Allora ragazzi, questo è il profilo di Pavel Trader e lui si certifica semplicemente come I swap all my cards, quindi scambio tutte le carte che ho, compro gallerie e bundles. È registrato da dicembre 2020, quindi è un anno e mezzo circa che è registrato. È seguitissimo ovviamente perché è il più famoso all'interno della piattaforma, o uno dei più famosi probabilmente. Già notate che tra la Hall of Fame delle sue carte trovate la carta di Diego Armando Maradona. E vi dico un'altra cosa, non è la sola, ok? Se andassimo a vedere la carta in questione, possiamo vedere la storicità della carta, come a maggio 2020, probabilmente il periodo in cui è stata messa sul mercato a disposizione in Sorare, e quando ancora Sorare non era così comune, la carta fu acquistata per 426 euro. 426 euro, ok? Parliamo di Diego Armando Maradona, una carta che adesso lui, Pavel Trader, ha messo in vendita a 88.000 euro. Ciò non significa che sia che la acquistano a quel prezzo. E attenzione, perché io posso andare a fare un'offerta proponendo la mia proposta o uno scambio di carte, e via dicendo, ok? Perché comunque sia, Pavel Trader si certifica come colui che scambia, vende qualsiasi cosa nella sua collezione. E qui vediamo il suo acquisto effettuato il primo aprile 2022, quindi esattamente poco meno di due mesi fa, tramite un'offerta. E non sappiamo quale sia l'offerta. Però vi faccio vedere che se andassimo a guardare le carte di Maradona in versione super rara, disponibili sul mercato, ce ne sono due! E sono entrambe di Pavel Trader, vedete? Ce ne sono due in vendita, ovviamente allo stesso prezzo, perché, ripeto, avendo il potere di mercato, lui può permettersi di mettere in vendita carta al prezzo che vuole. Fin quando un altro utente che è in possesso di una di queste carte non decide di mettere in vendita la sua copia, in questo caso. Ok? Una cosa che potete notare, molto importante, è la differenza di valore della carta nel corso del tempo. Ovviamente il valore attuale è inflazionato notevolmente da, purtroppo, la prematura morte di Maradona, di pochissimo tempo fa. Quindi sicuramente il valore della carta sarà decomplicato dal momento in cui Maradona è deceduto. E potete vedere prezzi di acquisto di carte versione super rare di Maradona. Cioè, parliamo di una carta come questa, acquistata a 249 euro più di un anno fa, 25 novembre 2020, pagata a 250 euro, una carta che potenzialmente adesso vale decine di migliaia di euro. O la differenza, circa un anno fa l'acquisto di questa carta da parte di Ronaldo, Ronaldo Sten, pagata 10.000 euro. Cioè, mettetevi nei panni di questo Ben, che nel 2020 ha acquistato tramite offerta, 332 euro. 332 euro. Una carta super rara di cui adesso a 332 euro non ti prendi manco il più ciambotto della serie A titolare, quasi. e ha venduto per un prezzo di 10.000 euro. Ovviamente, non stiamo parlando di fare trading su queste carte, assolutamente. Vi faccio solo vedere esempi di valutazioni e valori di carte. E qui abbiamo parlato di Maradona, ma potete vedere il numero di carte di cui è in possesso Pavel Trader è letteralmente pazzesco, perché è in possesso di 14.000 carte limited, 5.000 carte rare, 1.100 carte super rare, 157 carte uniche. 157 carte uniche che sono carte che possono valere da 5.000 euro per questo coreano passando a Success dell'Udinese a 7.000 euro. Passando per il Maradona che abbiamo visto prima. Mettiamo in ordine di prezzo. Highest price. E vediamo che ha tante carte uniche del valore superiore di 6, 8, 10.000 euro. Per non parlare di tutte le carte che ha in versione super rara, ha in versione rara, ha in versione limited. super rare, parliamo di 1.180 carte. Togliendo queste carte qua che valgono sopra i 10.000 euro, mettendo il lowest price, abbiamo decine, decine, centinaia di carte anche a 100 euro. Se noi prendessimo la calcolatrice e facessimo un conto, stando bassissimi, bassissimi di media, 150 euro per 1.180 carte, sono 177.000 euro di carte, di valore economico di carte super rare. E ripeto, sono stato non basso, di più. Perché se già vado a pagina 5, noi abbiamo 160 euro di media. Considerando che ci sono 25 pagine dove abbiamo card del valore di migliaia di euro come card super rare, voi potete soltanto immaginare il valore economico dell'account di Pave Trader. E potete farlo con le card rare, con le card uniche, con tutte le tipologie di carte sul mercato. È impossibile che non siate mai capitati su una vendita delle sue card. Io stavo guardando il prezzo di giocatori da Sedanitana ma Zocchi ci sono due card, tre card di Pave Trader in vendita come cheapest, come più economiche. Perché ripeto, lui lavora sul trading giornaliero di carte dalle limited alle rare alle super rare alle uniche. È letteralmente pazzesco. Vi invito a seguirlo assolutamente perché è è doveroso se siete nella piattaforma. Vi ricordo che se non l'avete fatto ancora potete registrarvi e ottenere una card limited registrandovi con il link che trovate in descrizione e facendo le vostre prime cinque aste. Otterrete una card limited casuale che può valere 5 euro può valere 13 euro come quella che ho vinto io può valere neanche 150 200 se avete un culo rotto. Detto ciò ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di Pavel Trader grazie per la compagnia spero che il video vi sia piaciuto un saluto e alla prossima da Bonlucio e fatemi sapere se volete continui la strada su Sorare ciao ciao